State sentendo? Sta suonando l'allarme rosso-nero per quello che riguarda un giocatore che è già entrato un po' nelle vene e nel cuore dei tifosi rossoneri, Alen San Maximen. Perché sta suonando l'allarme rosso-nero? Perché sembra che si stia intensificando l'interesse delle squadre inglesi e quando arrivano gli avvoltoi dalla terra di Albione sono avvoltoi che sanno come andare a prendere i giocatori, sanno come lusingarli, sanno coi loro artigli come afferrarli. Ovviamente il fascino della Premier League, il costo lievita perché ovviamente le squadre inglesi hanno più, lo si sa da tempo, hanno più possibilità economiche che le altre squadre europee. E dunque attenzione all'attacco dall'alto, dalla terra di Albione su Alen San Maximen. Però il Milan intelligentemente sta cercando alternative e come riporta anche la app di OneFootball ci sono altri nomi che potrebbero interessare oltre che il solito Deulofeo. Uno è forse anche più forte e completo di Alen San Maximen, ma è anche molto più caro. E parliamo di un giocatore che conosco bene, un giocatore di fascia, un giocatore che realizza nei assegnati 29 in 50 e poco più partite nel Lilla. Lui si chiama Nicolas Pepe. È un giocatore ivoriano, è un giocatore straordinario dal fiuto del gol, ovviamente è un 95 quindi un giocatore più diciamo più esperto ormai rispetto a San Maximen, è un giocatore più fatto diciamo così. Però attenzione, uno costa 25, 20-25 ed è nelle corde di casa Milan. Quell'altro sembra che il Lille, che è in alto in classifica nel campionato francese, ne voglia 40. Ecco perché mi sembra un'impresa prendere Nicolas Pepe. Altra soluzione è andare dal gremio, costo 15-20, e prendere questo Everton, che però sinceramente io conosco meno. Lo conoscerà sicuramente bene, non ho guardato i video anche perché non è stato accostato in maniera così intensa come Paquetà al Milan. Everton del gremio è un altro giocatore che potrebbe rientrare, secondo ripeto l'app di OneFootball che parla di Pepe e di Everton. Potrebbe essere un'altra alternativa a San Maximen, che rimane sempre il mio preferito perché forse è anche il giocatore che io conosco di più e che mi diverte di più. Rimane il solito Deulofeu, ma ci sono altre squadre inglesi che sono interessate, si parla addirittura nel sito di Guardiola, interessati al giocatore che sta militando con grande successo al Watford. Dunque questo è il solito panorama di giocatori esterni, ma volevo rimarcare l'allarme rosso-nero per quello che riguarda proprio il nostro caro Alessandro Maximen. Attenzione, il Milan deve muoversi bene, presto, deve sperare ovviamente di andare in Champions League e allora le, diciamo così, le carte sarebbero ancora più raffinate, carte ancora più invitanti per San Maximen. Ora vedremo come si svilupperà, ma attenzione, attenzione, proprio a questo attacco delle squadre inglesi per il nostro caro Alessandro Maximen. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati.